Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video che vi parla Enzo205 e oggi siamo qui in questo video in cui parleremo del Carnitrix, una creepypasta molto popolare di Ben 10. Mi raccomando prima di iniziare col video lasciate like e iscrivetevi al canale, detto questo iniziamo col video. In questa realtà alternativa Asmuth è uno scienziato pazzo ed ha progettato il Carnitrix con l'intenzione di distruggere la vita nell'universo, dal momento che disprezzava ogni forma di vita. Così creò il Carnitrix, una versione macrobra instabile dell'OmniTrix. Per nascondere il Carnitrix Asmuth lo inviò direttamente sulla Terra, poi Ben trovò il Carnitrix, innescando una trasformazione automatica quando Gwen lo toccò. Il Carnitrix innesca trasformazioni ogni volta che avverte un pericolo. Tuttavia Ben non aveva alcun controllo su queste trasformazioni, risultando in estrema violenza poiché lo scopo del Carnitrix era uccidere. Le forme aliene del Carnitrix sono bizzarre e mutilate. Queste imperfezioni derivano dal fatto che Asmuth è meno intelligente della sua controparte dell'universo originale, rendendo estremamente dolorosa e deformata le trasformazioni. Tragicamente Ben finì per uccidere sia Max che Gwen, insieme a molte altre persone, trasformandosi infine in Alienix e annientando l'intero universo. Carnitrix Ben iniziò così ad attaccare altre dimensioni, spingendo Paradox, l'originale Asmuth e altri Ben alternativi del multiverso a unire le forze contro quest'ultimo. Ben 10.000, assumendo la forma di Atomix, riesce a rendere incapace Carnitrix Ben, permettendo loro di riuscire a togliere il Carnitrix. Il Celestial Sapiens ha quindi creato l'universo originale di Carnitrix Ben, senza il dispositivo distruttivo. Anche se la minaccia è stata fermata, Ben era ancora alle prese con il trauma derivante degli eventi strazianti. Ci tengo a ricordare che questa è una storia fan made, cioè che è una neocficiale scritta dai fan. Fatemi sapere se vorreste una serie animata su questa storia. Quindi ragazzi il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, come al solito se vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un bel mi piace. Detto questo, al prossimo video. Ciao ciao!